appena trovati a 1800 metri di altezza mamma mia e anche oggi ad agosto mettiamo la nostra prestigiosa firma il buitre volteggia e cattura oggi 29 luglio c'è gente ma non c'è solo gente c'è anche il buitre e quando c'è il buitre ci sono anche i polcini un saluto dall'altro campione il megadito che è in pusteria che c'è solo finferli guardiamo qua intorno forse è lui c'è il nostro buitre e allora c'è qualcos'altro qua guardate il buitre volteggia e la cattura allora facciamo vedere un po gli amici e anche l'ottimo romano sega mio amico non è granché ma insomma ci accontentiamo canalone esperienza del buitre questi posti il buitre volteggia e cattura i polcini dei 1800 metri di altezza non è granché ma guardate che spettacolo guardate che spettacolo ragazzi sentite le mucche siamo andati a mille e cinque e passa non mi sento ne meno tanto bene ecco qua un freddo bestia un giorno prima di lasciare questo mondo racconteremo che siamo andati a funghi con l'influenza intestinale se sono sopravvissuto vedrete il video a novembre dicembre altrimenti ci vediamo nell'aldilà avevo detto cerchiamo qualcosa pure stata una vacanza molto difficoltosa qualcosa per ricordarla l'ultimo giorno che si va a funghi il buitre acciaccato volteggia e cattura vai guardate che spettacolo sono arrivato nelle mie funglie finalmente l'alpi finita finita a cazzo è finita sulle alpi e noi in appennino andiamo ancora segno e il buitre 17 18 ottobre quant'è 2019 appennino ecco qua edulis appenninico ecco qua edulis appenninico che campione signore e signori sempre il buitre a volte molto spesso la perfezione non esiste in questo caso esiste la perfezione modestamente un campione un saluto dal vostro campione buongiorno oggi 23 luglio 2019 e il buitre un campione modestia compresa il bosco è distrutto qualcosa comunque lo portiamo a casa quest'anno saranno piccole pastasciute un saluto dal buitre triste ma bisogna accettare la realtà primo 2019 il buitre 23 giugno buone vacanze 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 il buitre 24 giugno buoni vacanze il buitre 24 giugno buone vacanze il buitre 24 giugno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.